ciao a tutti i lettori di music sono senza grì ho 21 anni e sono una cantatrice e il 18 gennaio uscirà il mio primo ep salto nel vuoto allora la vita è essenzialmente quello di cui faccio parte quello per cui respiro è una cosa a cui non sarò mai abbastanza grata la sto scoprendo la vita quindi voglio masticarla mangiarla fino all'ultimo momento il tempo è prezioso e ogni tanto ci litigo perché dimentico il valore che ha col tempo devo imparare a conviverci ma sto instaurando un buon rapporto mi pare è l'amore è una delle ragioni per cui esistiamo siamo qui probabilmente per cercare di rendere la terra un posto migliore di come l'abbiamo trovata e l'amore ci aiuta in questo la rabbia la rabbia la rabbia è un'emozione con cui faccio spesso a botte ma che in realtà mi ha insegnato a conoscermi e ora sto cercando io di conoscere bene lei per scoprire i suoi punti deboli ma anche i suoi punti di forza la morte spero che non sia davvero una fine e che sia un nuovo inizio perché mi fa tanto paura certe volte mi ha portato via troppe cose troppe persone ma sono un'ottimista quindi morte fammi un regalo non mi piacerebbe atterrare perché voglio gustarmi ogni attimo e non voglio stabilire un punto d'arrivo un punto per cui lì mi sentirò piena di me voglio soltanto godere della dell'ascolto degli altri e stare bene nella nell'unico posto che mi fa sentire a casa che è la musica certo allora tu sai è la prima traccia è un pezzo che è il primo pezzo che ho scritto è un pezzo innocente che racconta una ragazzina di 16 anni 15 anni che sogna e spera che un giorno tutto quello che scrive possa realizzarsi Camaleonte è il racconto di una crisi di una crisi di rabbia che non sa come svolgersi e non sa come migliorare se stessa e lì subentra la mia testa che con il suo fiero ottimismo cerca di trovare il bene in tutto a me è la storia di una ragazzina sempre io che si guarda allo specchio e non si vuole così bene non si piace così tanto ma poi dice perché perché non mi posso voler bene perché non posso essere serena con me allora inizia a prendere tutti i suoi difetti tutte quelle cose che non gli piacciono le modella le smussa e fino al momento in cui dice vado bene anche così Edra è la storia di una morte è una canzone terapeutica che mi aiuta a realizzare la mancanza di qualcuno e anche se non l'accetterò probabilmente mai sapere che non so dove sia questa persona ma che magari un giorno potremmo trovarci è un tocca sana Salto nel vuoto è la storia di un amore che ti insegna a riprenderti in qualche modo Salto nel vuoto è una canzone che io ho scritto in due tempi diversi l'unica canzone che io ho scritto in due tempi diversi prima durante la sofferenza dato da un amore che non è andato e in un secondo momento a distanza di tanto tempo quando io quell'amore ho imparato ad amarlo così com'era anche se non era del tutto corretto Bordi è imparare a voler bene a affidarsi a qualcuno è un po' come se fosse legata da me perché mentre a me ti racconta che ti basti da solo Bordi ti dice che poi qualche volta puoi anche permetterti di non farlo Amore 25 novembre è una canzone che denuncia tutto quello che non va perché la violenza viene spesso associata all'amore e invece sono due cose che proprio non si sono mai viste nemmeno guardate in faccia quindi l'amore vuole stare alla larga da questo e lo scrive in questa canzone Tra cinque anni vorrei vedermi felice e con un mare di gente che mi ascolta e che mi vuole bene e che canta le mie canzoni insieme a me Speriamo in un live Oddio sapete che non me lo ricordo più perché è passato troppo tempo e non mi ricordo veramente più non lo so Ieri ho ascoltato il disco di Noise tra l'altro molto bello Ma io sono una che le pazzie le vede nelle piccole cose nello scappare durante un incontro per andare ad abbracciare qualcuno e devo dire che queste le faccio tipo cinque volte al giorno Ciao Ciao Ciao